e benvenuti ragazzi in questo nuovo video noi siamo i brothers players siamo tornati alle origini ovvero da dove tutto è iniziato quindi su speedbox ragazzi tra l'altro troverete in descrizione se è già uscito si è già uscito sicuro il video è la nostra reazione al nostro primo video in assoluto che dura tipo 2 minuti su questo gioco quindi oggi lo riportiamo in onore dei vecchi tempi giusto? iscriviti al canale lascia mi piace al video condividilo su instagram su facebook da notare nella canzone no ma la qualità comunque è alta select game mode to play classico infinity però almeno quest'anno non laggiamo questo gameplay non lagga non dirmi che quella riga verde è il livello perché sennò non finiremo mai questo livello si si che ci vuole però sai quanto cazzo ahhh 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 nooo 1700 tocca a me dai proprio la faccia 1700 new highscore non lo batteremo mai più che c***o hai fatto? che c***o hai fatto? ma io in realtà non te l'ho mai detto ma sono un pro player di questo gioco non mi ricordo come si chiama 율 rate Spear 2 ragazzi e che ci vuole dai eуйте ci vuole dai AHAh ma che ci vuole le ultime parole ok in realtà Spear 2 concentri non flippa Flà non flippa non flippa Flà eccolo fiji Addio Che palle Questa è tua Però ogni volta che parli Porco di aia lingua Ci sono Ci sono raga record Spirci Merda Oh raga Iscriviti Oddio 2003 Oh micchia 2003 Abbiamo appena finito Non riesco a parlare Abbiamo appena finito di registrare Speedbox E lo schermo del telefono Ovvero il gioco La visura del gioco è tutta nera E non è un insulto razziale Era venuto per un bel video Ma vedi tu Ma la madonna Ma che merda di vita Eravamo tutti belli produttivi A fare gameplay veloci Così scattanti Così ci portavamo avanti Con i video Ma non ha senso Ma non è speedbox Ma è magico Ma che cazzo Ci deve essere solo un gameplay A canale E pure ieri ho registrato lo schermo Non è che dici Ho cambiato le impostazioni Ieri È sempre tutto a noi Ma che impressionante Problema Hai visto? Non registra un speedbox Guarda È speedbox È magico Raga non stiamo capendo Non ci registra più Comunque abbiamo perso un video Pogma Le disavventure The brothers players Questo potrebbe essere Tranquillamente un video Che due coglio Il posto di speedbox Che palle Perché Perché la Ita è puttata Anche la madonna Si Le disavventure The brothers players Io lo carico E benvenuti ragazzi In questo nuovo video È finito No così capite Perché a noi Noi prima di diventare Atei Eravamo credenti Guarda non vuole Di cosa stiamo parlando Link in descrizione Del video reazione Di speedbox Che abbiamo provato A riregistrare oggi Dopo 4 anni Ma speedbox Non si può registrare Registra tutto nero Vi giuro raga Tutto nero C'è solo la welcome Speriamo che salvi Almeno quella Si ce l'ho io Questo qua È un video Completamente no sense Durerà poco Quindi sarà fidelizzato Bene da youtube Quindi Bene È incredibile Allora No raga Adesso riproviamo A fare Provo Provo A fare una cosa Adesso Direttamente dal gioco Perché Oh sto giocando Cioè mo ve lo faccio vedere Porta p***a Cioè sto giocando Veramente a speedbox Cioè non è che mo Vediamo se è così È speedbox il problema Non è il programma Di registrazione E sono contento Di questa cosa Sinceramente Ma anch'io Però allo stesso tempo No perché Poteva venire un video Della madonna Cioè volevamo fare Un video carino Chiamato ritorno alle origini Ovvero dove Ritornavamo a giocare A speedbox Abbiamo fatto pure Live score Ma tanto Guarda vediamo se Ecco Best score 2300 Ok Abbiamo pure fatto Il record Ma giustamente Dio ci vuole male E quindi Dire queste cose Di ringraziarmi Non ho detto altro Niente Non si può Ah raga Allora Questo video finisce qua Ti gratti tu scendola schiena Ti prego Questo Questo video finisce qua Con me che gratto Matt Perché Non possiamo Non possiamo registrare Speedbox Grazie Quindi Speedbox ci deve essere solo un video Aspetta voglio provare a fare una cosa Ci dispiace Per questo video di merda Speriamo che comunque Avete capito Quello che c'è dietro I nostri video Perché abbiamo Le nostre Sfighe Speriamo che questo video Vi sia piaciuto Anche se Non è bello Ma magari si Che ne sai Non lo so Non so cosa ci sto fuori Non so come lo monterò Io non so come lo monterò Sto video Lasciate un mi piace Di condividere Di commentare Di iscrivervi al canale Di condividere questo video Magari non proprio questo Non questo Su Instagram Telegram Facebook Condividi Condividi la playlist nostra Dei video consigliati Su Whatsapp Quindi alla prossima Ciao Ciao Ciao